Eccoci in diretta, benvenuti a tutti, buonasera, io sono Nicola De Pasquale, tutor online della Zanichelli e come sapete stasera c'è il terzo incontro, il terzo seminario sul web proposto in occasione dei corsi avanzati Primavera 2016 dalla Zanichelli Corsi Online. Sapete che questi corsi sono rivolti a colleghi sia di matematica, sia di fisica, sia di scienze, questo dicevo è il terzo incontro, stasera avremo il piacere di ascoltare e anche di interloquire, cioè di poter colloquiare con il professor Carlo Bertoni e la professoressa Elisa Garagnani. Buonasera, tra un attimo vi presento Elisa Garagnani che è una matematica, dopo il dottorato di ricerca in analisi a Bologna, per 11 anni, da 11 anni insegna matematica e fisica all'ISIS Archimede, San Giovanni in Persiceto, sempre Bologna. Ha avuto esperienze di insegnamento non solo al liceo scientifico, anche al liceo linguistico e classico. Collabora da più di dieci anni con la Zanichelli, in diversi ruoli, correttrice di bozze, autrice di esercizi, se non ricordo male, ma ricordo bene, ha collaborato con i nostri amati libri di bergamini, se non ricordo male, appunto. Poi oltre a questo ha fatto anche la formatrice. Di recente ha conseguito il master come formatore in didattica della matematica, questo le ha aperto la possibilità, il mondo delle docenze universitarie in didattica della matematica sempre. Da due anni, tra l'altro, appunto insegna didattica e laboratorio di didattica, i corsi abilitanti e i famosi TFA. Poi abbiamo Carlo Bertoni, dal 2000 insegna il liceo scientifico copernico di Bologna, è un fisico se non ricordo male, autore tra l'altro del libro Semafori intelligenti, record olimpici e risparmio energetico, proprio sull'introduzione alla modellizzazione matematica in modo particolare al biegno. Di recente ha collaborato al libretto verso la seconda prova di matematica, in preparazione al nuovo esame che molti dei colleghi di matematica hanno ricevuto, non solo i colleghi, ma anche praticamente tutti gli alunni del liceo scientifico, del quinto liceo scientifico, hanno avuto l'opportunità di ricevere durante quest'anno scolastico, come sapete. Bene, stasera ci occuperemo, il tema del seminario è la modellizzazione matematica nella didattica del quinto liceo scientifico. Io immediatamente passo la parola e il video al professor Bertoni, a Carlo. Buon ascolto e buona partecipazione a tutti. Ancora benvenuti a tutti. Io vorrei cominciare pensando in vista... Scusa Nicola, io vedo Edisa, giusto? No, in questo momento si sta vedendo il tuo volto in primo piano. Va bene, scusa, mi perdevo. Dicevo, dopo un anno del nuovo esame di Stato c'è un po' di timore anche a scuola da noi su come possano andare avanti i problemi proposti nella prova finale, perché ci sono pochi esempi di simulazioni, un esempio dell'esame e quindi ci sono idee un pochino confuse. Io cercherò di seguire un po' due filoni. Da una parte cercare di capire che cosa ci si può aspettare dai prossimi esempi d'esame a partire da questo giugno e dall'altra come si può cercare di combinare una preparazione specifica per l'esame, quindi puntare a saper fare i problemi così come si sono proposti, col massimo possibile di risultati da un punto di vista strettamente didattico, perché sicuramente è un problema quello della quantità di argomenti che viene richiesto di affrontare per preparare l'esame e quindi il fatto di preparare anche a utilizzare questi argomenti a un punto di vista applicativo per fare modernizzazioni richiede più tempo e quindi spaventa molti insegnanti. È un problema ma secondo me con qualche accorgimento si può riuscire a combinare due cose. Allora uno degli argomenti che è comparso di più sia nelle simulazioni preventive che anche all'esame stesso è quello di cercare di rappresentare un insieme di dati utilizzando una funzione. Il insieme di dati può essere dato in forma di valori precisi, con alcune indicazioni come nel caso della simulazione della scatola di scarpe. Secondo me si tratta di un tipo di problema che per diversi modi ha degli interessanti aspetti didattici. Prima di tutto perché si lega molto strettamente al studio di funzione che è stato negli anni passati il nucleo del programma di quinta, non lo è più perché adesso ce ne sono tante altre però penso che continuerà a essere un punto centrale dell'esame. Ha il vantaggio che non ha una difficoltà standard, si può rendere più o meno semplice quindi adattarsi un po' a quello che si riesce a fare, almeno finché uno lo prepara per sé, in classe lavorando solo su un certo gruppo di funzioni da cui si può attingere ovviamente mettendo più o meno parametri liberi e andare in realtà semplicemente di legare i concetti matematici come derivata, tangente, assintoto, continuità agli aspetti concreti del problema reale. Quindi io penso che anche se negli anni prossimi verranno aggiunti altri argomenti, non solo nei quesiti ma anche nel problema, questo rimarrà, non dico tutti gli anni, ma insomma forse uno di quelli più importanti. Allora, questo problema è lo spunto per sottolineare alcuni aspetti della modernizzazione. C'è una famosa frase che è attribuita a Gamow, ma in realtà si trova attribuita a tante persone perché è venuta bene, quindi ormai si è persa a memoria di chi l'abbia detta che è datemi 5 parametri liberi e riprodurrò il profilo di un elefante e qui nella figura che sto facendo vedere c'è uno che ci ha provato, c'è altri parametri complessi, ma insomma ha più o meno riprodotto un elefante usando una funzione. Questo è un modo per dire chiaramente che non è detto che il fatto che una funzione si adatti bene a dei dati, voglia dire che è la funzione che descrive che sia un buon modello. A questa proposta faccio vedere un esempio che uso spesso, soprattutto in fisica, ma che è molto, secondo me, calzante a questo punto di vista. Quelli che vedete sono i dati raccolti da Hubble negli anni 20 del secolo scorso sulla velocità con cui si allontanano le galassie dalla Terra in funzione della distanza. Sono dati abbastanza sparpagliati anche perché erano galassie vicine, quindi molto disturbate da molti locali, c'erano ancora molte incertezze sui dati. Uno vedendo quei dati potrebbe costruire una funzione come quella che ha disegnato adesso, tratteggiata, che grosso modo insomma insegue bene i dati. Beh, Hubble non ha fatto così. Hubble ha detto che questi dati sono ben rappresentati da una retta. Io delle volte dico ai ragazzi, se voi mi dite che quei dati sono ben rappresentati da una retta, io vi do insufficienza. Però Hubble ha fatto una delle più grandi scoperte cosmonologiche del secolo scorso con quello. Tanto è vero che poi i dati successivi, nel dato che vedete piccolo in basso, hanno quelli di galassie più lontane, con misure più precise, hanno confermato con grandissima precisione la sua intuizione. Perché ha scelto una retta non quella tratteggiata che ho fatto vedere, ma perché la retta aveva un significato anche fisico, quindi una curva che si adatta semplicemente ai dati ma senza avere un senso, a volte può essere comoda ma non è sempre particolarmente significativa come modello. Soprattutto una retta, se penso che abbia un senso, posso anche estrapolarla, qui assolutamente no. Posso immaginare che anche la curva tratteggiata possa descrivere i dati all'interno del range che sto considerando, ma non oltre. Vi faccio vedere un piccolo problema di questo tipo, che si può dare già in quarta. Scrivete una formula che descriva l'andamento di questo anno della temperatura a Roma in funzione della data, sulla base di questi dati che ho raccontato un po' di tempo fa, credo che siano i dati medi giornalieri, no mensili scusate, ogni punto è un mese per 5 anni. C'è chiaramente l'andamento oscillatorio che rappresenta l'estate e l'inverno e quindi sulla base delle funzioni che i ragazzi conoscono potrebbero pensare di utilizzare una funzione sinusoidale, cosinusoidale. Ecco, io credo che saper non solo rappresentare i grafici delle funzioni sinusoidali, che è una cosa che si fa di solito, ma anche saperne interpretare i parametri principali, come l'ho scritto io qua, cioè un y0 che rappresenta il centro di oscillazione, A che rappresenta un range di oscillazione a partire dal centro, un periodo, una fase, sapere che significato geometrico ha anche i parametri, quindi come posso poi utilizzarla per descrivere dei dati, ci si può lavorare sopra già fin dalla quarta ed è un ottimo allenamento poi a lavorare con le funzioni più generiche. In questo caso quindi uno poteva analizzare i dati di temperatura minima intorno ai 7 gradi, la temperatura massima 27, quindi la media 17 e l'escursione dalla media 10, quindi 17 più o meno 10 diciamo. Il periodo è chiaramente annuale perché segue l'andamento delle stagioni, quindi 12 mesi, dovendo scegliere un'unità di misura, adesso qui ho scelto il mese per il tempo, ma si poteva fare scelte anche diverse, si nota che la temperatura massima si ha tra luglio e agosto, quindi andando in mesi diciamo circa al tempo 7,5 e quindi a partire, siccome il coseno ha un massimo di per sé in 0 se devo sfasarlo di 7,5 del periodo. A partire da queste considerazioni si può scrivere una funzione fatta in questo modo, quindi Y0 diventa la temperatura media, l'ampiezza quella che abbiamo detto e sovrapposta poi ai dati e li segue con discreta accuratezza. La fase è l'aspetto che i ragazzi trovano in solito più difficili, ma dopo due o tre esempi imparano poi a muovere, si decidono se usare un seno o un coseno, perché se partisse dal massimo o dal centro si potrebbe scegliere direttamente un seno o un coseno, qui non è nessuna dei due casi, quindi si può mettere, ma dopo un po' imparano a usare la fase. Un altro esempio interessante possono essere i polinomi, sono stati usati anche in alcune delle simulazioni che sono state usate gli anni scorsi. I polinomi, io delle volte in classe dico hanno tanti aspetti belli, ma hanno anche qualche rischio. Tanti aspetti belli nel senso che con i polinomi si può modellizzare praticamente qualunque cosa, perché basta decidere per quanti punti devono passare, arrivo fino a quel grado lì e riesco a seguire qualunque insieme di punti, come era anche che mi sembra l'esame scorso, la simulazione scorso non mi ricordo più quale dei due, però hanno il problema che dicevo prima, cioè non si sa mai se la funzione che ottengo ha un significato reale. Dopo un po' che si lavora sul studio di funzione, si può dare una carrellata, adesso qui facevo vedere l'andamento che possono avere i polinomi di grado 0, 1, 2, 3, 4 e quindi far capire il discorso che è venuto fuori poi in tantissimi esami anche passati, in cui si è chiesto quanti massimi, quanti minimi al massimo poteva avere una certa funzione, che era un polinomi di grado n o n-1 e quindi anche qui la risposta tra una funzione e la sua derivata, il fatto che si abbassa il grado su un polinomio, tutte considerazioni che si possono fare e quindi ragionare sulle forme che possono avere, se si ragiona fino al grado 3, 4, i ragazzi riescono direi a seguire abbastanza bene il ragionamento. Ecco, vi racconto un piccolo esempio di un'applicazione importante di una simulazione, di un fit che è stato fatto di una funzione che ha avuto un'importanza storica notevole, è lo sbarco in Normandia. Questo da punto di vista tecnico è un po' complessa per i ragazzi, però anche solo il racconto delle volte può far vedere che quello di cui stiamo parlando non è l'idea che è venuta l'insegnante per fargli fare l'esame, però è una cosa che ha applicazioni in questo caso che avevano, era questione di vita o di morte diciamo. Allora quando dovevano programmare lo sbarco in Normandia era fondamentale sapere in dettaglio la marea che avrebbero trovato davanti perché Rommel, il maresciallo tedefo che sovrintendeva le difese in Normandia, aveva disseminato le spiagge, come vedete qui, di ostacoli per le navi che avevano lo scopo, loro immaginavano che sarebbero sbarcati con l'alta marea per riuscire ad arrivare più avanti possibile e quindi quegli ostacoli erano sotto il pelo dell'acqua e avrebbero sfondato la chiglia delle navi. Gli ostacoli sono stati osservati dai ricognitori aerei e quindi gli alleati hanno deciso, invece di fare in questo modo, di mandare prima dei massi a marea che avrebbero fatto dei corridoi di ostacoli e poi gli ostacoli sarebbero arrivati con l'altra marea passando in questi corridoi per arrivare più avanti possibile. Il problema è che in Normandia le maree hanno un'escursione di altezza enorme, anche 10 metri e il livello può variare a velocità anche di un metro, un metro e metro all'ora e è diverso da una località a quella successiva. Per esempio qui vedete l'oscillazione della marea in ascissa vetro e in ordinata l'altezza del mare in due località che distano 30 km una dall'altra e vedete che c'è uno sfasamento anche di 20 minuti e mezz'ora tra il massimo il pismo in una località nell'altra e che nei punti più pendenti in un'ora cambia di, mi sembra, anche 2-3 metri. Quindi era necessario avere informazioni molto precise. Come le hanno ottenute? Mandando dei sommozzatori, degli incursori nei mesi precedenti che misuravano l'altezza a diverse ore e poi cercavano di ricostruire la funzione usando una serie di Fourier, cosa che insomma con i ragazzi si può magari soccennare, però quindi semplicemente trovando i valori di parametri che moltiplicano le diverse funzioni. Quindi in questo modo si poteva provare a prevedere con sufficiente precisione come sarebbe stata la marea in una certa località. Ecco, con questo sul fit direi di fermo un momento, faccio la parola a Elisa per proseguire il discorso. Buonasera a tutti. Io ritorno, sì, un po' anche a quello che è più nello specifico quello che è il programma del quinto anno, dove vede l'analisi, il calcolo come protagonista per eccellenza e è un strumento potentissimo e indispensabile per tutte le scienze per farmabilizzazione. In particolare volevo un po' confrontarci su cosa significa inserire nei due argomenti principali che possono essere derivati integrali, il cuore un po' dell'analisi, cosa significa rivisitarli, rileggerli in una chiave di modellizzazione, non soltanto di matematica astratta pura. Ovviamente per quanto riguarda le derivate è facile mostrare come le interpretazioni che si possono dedurre, che sicuramente quella geometrica come pendenza della retta tangente, che anche questa è una sua applicazione notevole, importante come approssimazione delle funzioni localmente, sia come il tasso di variazione, la velocità di variazione che lega le due grandezze coinvolte. Ed è utile fin da subito mostrare degli esempi contestualizzati in cui questa funzione F descrive una interessante relazione con un'altra variabile, la fisica in primi soffre degli esempi eccezionali seguiti da scienze naturali e sociali e ogni volta appunto che noi abbiamo una funzione che descrive una relazione la sua derivata ha una precisa interpretazione come tasso istantaneo di variazione, interpretazione che bisogna aiutare i ragazzi a diventare abbastanza spontanea come interpretazione ma che purtroppo non è da subito. Quindi al di là di esempi molto classici dalla fisica per cui si possono reinterpretare la velocità come derivata della posizione, l'accelerazione come rapporto, l'accelerazione di velocità nel tempo e quindi passando al tasso istantaneo come derivata della velocità, potenza come la derivata del lavoro, l'intensità di corrente elettrica come la derivata della carica appunto che passa probabilmente un conduttore nell'unità di tempo, ma anche altri esempi di grandezze che non dipendono soltanto dalla variabile tempo ma l'altra variabile protagonista della fisica ad esempio è la posizione dove possiamo reinterpretare, pensare laddove io ho una barra non omogenea, poter partire dalla funzione che mi descrive la massa per il primo tratto L di lunghezza della sbarra e passare appunto come rapporto tra la variazione della massa rispetto alla lunghezza alla densità lineare, queste sono solo appunto alcune applicazioni che dalla fisica vengono molto spontanee ma ne possiamo trovare anche altre dalla chimica come il tasso istantaneo di reazione con cui appunto cambia la concentrazione del reagente durante la reazione. Biologia offre tanti altri esempi, dato il tasso di crescita di una popolazione, l'economia, il costo marginale e anche questo dalla sociologia se ne possono trovare diversi altri. Interessante è proporre ai ragazzi attività che a Messia America Carlo ha sempre dato molta soddisfazione, è quello di ad esempio chiedere agli studenti stessi ad esempio di cercare in rete sui giornali grafici che descrivono qualsiasi tipo di funzione in funzione appunto di un'altra variabile e proporre come interpretare la derivata di questa funzione, cioè che tipo di tasso di variazione ci sta dando e quale informazione non è utile o meno ci può dare. Questo solitamente io lo faccio anche con esempi qualitativi, ad esempio questo è un problema che è stato scritto e proposto dal CIM come esempi di certe prove anche percorsi deboli, ma lo trovo assolutamente adatto anche per un liceo scientifico. Come esempio, vi propongo questo come esempio appunto di problema che si sposta più sull'interpretazione qualitativa che di calcolo quantitativo, che è l'interpretazione ad esempio di questa funzione che lo psicologo Thurston nel 1916 elaborò per descrivere il grado di apprendimento di una databilità. Questo psicologo propone appunto questa funzione x la cui equazione è appunto ad x uguale a x fratto a più bx dove a e b sono parametri positivi e x è anche anch'essa positiva e rappresenta quantifica in un certo senso la pratica se fatto per arrivare un certo grado di apprendimento. Quindi l'apprendimento come in funzione della pratica. E a questo punto può essere interessante, una volta appunto che i ragazzi hanno riconosciuto essere un ramo di iperbole, il grafico che rappresenta questo, iniziare a chiedere ad esempio qual è il significato dell'assintoto orizzontale nella psicologia dell'apprendimento. quindi guidarli anche a mostrare che l'apprendimento di una certa abilità tende poi a stabilizzarsi, cioè infinita pratica non sempre corrisponde a un grado di apprendimento illimitato, quindi dipende anche dalle personali attitudini, dalle capacità. e ad esempio far ragionare sul ruolo dei parametri. Si potrebbero anche in qualche modo usare anche degli strumenti informatici per far rappresentare ad esempio questa curva parametrica e chiedere come questi parametri influentano. ad esempio la domanda del quesito era quel parametro B, se lo pensiamo legato a diversi gradi di abilità che una persona può avere o di predisposizione. Maggiore è il valore di B a quali tipi di persone corrisponde, a persone più predisposte o meno rispetto all'apprendimento di quella particolare abilità. Sperimentare anche questo tipo quindi di quesiti più qualitativi aiutano i ragazzi ad argomentare, a provare a reinterpretare appunto queste grandezze. Infatti come ultima domanda la proposta era appunto di interpretare quale significato assume la derivata prima della funzione ad x, quindi in un certo senso legarla alla velocità con cui si apprende. Per poi ad esempio si può mostrare che all'inizio la velocità di apprendimento è maggiore e poi tende verso l'assintoto orizzontale a tendere verso zero, insomma, la velocità di apprendimento. Un altro problema, esempio in cui si chiede molto di interpretare anche le variabili in gioco, è questo che ad esempio vi leggo. Sotto certe condizioni la diffusione di una notizia, questo se vogliamo ad esempio un esempio in sociologia, si propaga secondo questa legge, quindi t rappresenta il tempo, a e b come al solito sono dei parametri positivi e pdp rappresenta la frazione di popolazione a conoscenza ad esempio della notizia all'istante t. Allora, innanzitutto con delle domande far capire se questo può essere un modello sensato di come si può evolvere una notizia. Quindi, non so, calcolare il limite per x che tende a pdp e interpretare il risultato. Chiedere di calcolare la velocità di diffusione della notizia per poter riconoscere appunto che anche qui lo strumento della derivata prima è utile in questo contesto. Far ragionare i ragazzi su elementi specifici e magari far anche stimare con un grafico accurato, non so, dopo quanto tempo si stima che l'80% della popolazione possa essere al corrente della notizia. Non so, questi sono esempi in cui, ripeto, è possibile se non altro a spostare l'attenzione sul calcolo quantitativo ad analisi di tipo qualitativo che per i ragazzi non sono assolutamente banali e vanno un attimo esercitate. Un aspetto che per me è importante anche nel far riconoscere che è derivata a tanti significati diversi, anche in situazioni molto diverse, è per motivarli anche quasi paradossalmente al trattare il concetto di derivata anche da un punto di vista geometrico comune, astratto. In che senso? Se questo concetto dà tanti frutti in tanti ambiti diversi, fisica, sociologia, forse studiarne le proprietà da un punto di vista generale vale la pena per poi rivedere queste proprietà nelle singole discipline cosa ci sta dicendo e questa è una scelta molto più economica ed efficiente che lasciare ad ogni singola disciplina studiare le proprietà di questo tasso istantaneo di variazione. Quindi anche la modellizzazione secondo me dà anche un ritorno motivazionale sullo studio più generale di concetto astratto e non solo viceversa. Allora, arrivano delle domande... o no? Mi sbaglio. Sì, te ne leggo una. In una quinta non sarebbe più interessante provare a far costruire un modello matematico piuttosto che interpretarne uno già realizzato? Sì, sicuramente. Questi infatti erano un po' esempi introduttivi per sviluppare nei ragazzi una attitudine all'interpretazione della derivata come velocità di variazione. L'opportuno è guidarli poi a riconoscere, ad esempio, a riconoscere, questo infatti secondo me è una parte importantissima che va ripresa anche alla luce di tutte le funzioni che si sono introdotte in terza, in quarta, negli anni precedenti, è importantissimo rienterpretarli con un modello differenziale perché loro possano riconoscere nelle diverse situazioni. Quindi, ad esempio, reinterpretare i modelli lineari come quelli caratterizzati da una velocità di variazione costante, quindi invitare i ragazzi a riconoscere che se parliamo di una corrente di aria fredda che si muove verso l'alto, si espande e si raffredda di 10 gradi per centigradi per chilometro, bisogna costruirci sopra un modello lineare o la fabbrica produce 46 di ogni ora e così via. Quindi, le simulazioni sono state richieste, se non erro, quando si chiedeva nella stagione scorso anno, si modellizzava l'uscita dallo stadio del flusso di gente finita la partita, si è un modello di tipo esponenziale. Quindi, guidare i ragazzi a riconoscere che quando invece ho una velocità di variazione proporzionale al valore della funzione stessa, questo tipo di andamento esponenziale. Di esempi qua ce ne sono anche tanti per far rendere il tutto più spontaneo i ragazzi, per farli esercitare dalla cultura batterica, al decadimento radioattivo. Ha anche, curiosa, la leggenda dell'inventore degli scacchi, per cui l'inventore chiese come ricompensa al re un chicco di riso sulla prima casella, due chicchi sulla seconda, quattro chicchi per la terza e così via, raddoppiando continuamente il numero di chicchi di riso della casella precedente. Anche un esempio che vi mostro, proprio per far costruire ai ragazzi stessi un modello, anche sulla crescita esponenziale si trovano tantissimi esempi, anche dai giornali, dalle notizie, e a volte si legge anche la crescita esponenziale in maniera poco corretta come utilizzo. Vi propongo questo quesito sviluppato a partire da una dichiarazione sull'Espresso del 2008. Con la domanda, Snam fa pieno di gas, con la domanda che cresce del 2% l'anno, il che vuol dire che da oggi al 2015 incrementerà del 30%, la nostra potenza di investimento di un miliardo di euro all'anno deve mantenersi ben oltre il 2010, afferma Malcarni, amministratore delegato della Snam Eni. La domanda che si può fare ai ragazzi è, assunto che la domanda di gas, come dichiarato, cresca del 2% l'anno, dal 2008 al 2015, l'affermazione, da oggi al 2015 la domanda crescerà del 30%, è corretta? Quindi si invita i ragazzi a crearsi, a costruirsi il modello matematico e a ricalcolare quindi la percentuale di crescita in quel pelasso di tempo. È un esercizio che dà soddisfazione perché l'incremento corretto viene praticamente alla metà di quello dichiarato, e quindi questo è anche proprio uno strumento potente di analisi anche dei dati che ci vengono proposti, le riletture che anche a volte si vedono lette nei giornali. Altri esempi di modelli, insomma, si possono anche reinterpretare quelle funzioni sinusoidali tipiche dei modelli periodici, come ci diceva prima Carlo, come quelle più semplici funzioni caratterizzate da un'accelerazione di scordia proporzionale al valore della funzione stessa, quindi proprio il classico modello armonico. Si potrebbe andare avanti, si potrebbe reinterpretare anche le crescite polinomiali di secondo grado, come crescite che hanno la velocità della velocità, cioè l'accelerazione, il tasso di accelerazione costante nel tempo, se la variabile è il tempo, e così via. Però bisogna secondo me costruire ai ragazzi alcuni esempi, proprio perché per loro passare alla modellizzazione non è qualcosa, è una competenza che va costruita e va costruita e pensata fin da quando noi introduciamo le più semplici funzioni a partire dalla geometria analitica del terzo anno, a partire da esponenziali logaritmi, e così via con le funzioni trigonometriche. Questo almeno è quello che ritengo, non so se ho risposto, ci sono altre domande. Visto che adesso sta per ripartire il percorso che avevate preventivato con il secondo intervento di Carlo, io forse prenderei spunto dall'ultima affermazione che hai fatto, quella relativa al fatto che va costruita una mentalità da parte dei nostri alunni, per porre una domanda che mi sono spesso fatto in merito. La mentalità va costruita, come abbiamo detto, magari anche dal biegno, faccio riferimento per esempio al testo di Carlo. Voi che avete l'esperienza di aver portato magari dei ragazzi fino all'ultimo anno con questo spirito, possiamo dire, potete darmi una testimonianza del fatto che in qualche modo per i ragazzi risulta effettivamente un vantaggio, non dico soltanto a livello di mentalità come si è evoluta la loro mentalità matematica relativa a come affrontano l'esame di Stato, ma anche in proiezione a quello che succede poi nel momento in cui vanno ad affrontare gli studi universitari. Non so se ho spiegato la domanda. Sì, 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 per me è un valore aggiunto che è possibile. Poi cedo la parola a Carlo. Non rispondere subito e magari poi dare la risposta in conclusione nella fase conclusiva. Sì, sì, sì. Io accenno brevemente il fatto che per ora sto decisamente avendo più soddisfazioni che delusioni, anche come feedback post diploma, insomma ormai ho due o tre quinte che ho portato a termine con questo tipo di percorso senza necessariamente affrontare i contenuti generali in maniera meno precisa. Sicuramente ho alleggerito la parte di calcolo, cioè la parte algebrica con anche il dubbio di magari non do gli strumenti giusti poi per affrontare quello che chiede il mondo universitario. In realtà come feedback li ho avuti molto positivi, nel senso che poi chi si iscrive a facoltà scientifiche ma non pure, quindi escludendo matematica e fisica, che comunque i miei studenti che si sono iscritti a matematica e fisica non hanno avuto problemi problemi di sorta. Gli altri invece si sono trovati con molta più naturalezza e desiderano usare strumenti matematici perché già per loro la loro interpretazione era un pochino più naturale. Quindi oltre al fatto che già nel percorso li vedo più motivati, per quanto è faticoso, è faticoso raccogliere esempi, è faticoso trovare del materiale, però insomma le soddisfazioni secondo me arrivano e bisogna ripensare un po' la didattica, bisogna organizzarsi bene, cioè non sono cose che si improvvisano e soprattutto bisogna un attimo dare il giusto peso alla parte di modellizzazione, a quella appunto invece quella più classica che è altrettanto importante. Passo la parola a Carlo che anche... Aggiungo sempre su questa domanda anche la mia esperienza, dunque, vantaggi per gli studenti se lo chiedi a loro nel momento in cui cominci a fare queste cose dicono di no perché è più faticoso, non c'è dubbio, cioè tutto sommato l'analisi tradizionale, a meno come si fa al liceo in cui non fai tante dimostrazioni, devi imparare una serie di tecniche più o meno complicate ma insomma chiunque ne esce, quando devi analizzare una situazione reale e capire come descriverla, beh c'è da studarci un po' sopra. Però non mi ricordo chi l'ha detto ma a me è piaciuta molto come frase, uno studente dovrebbe uscire da un'elezione di matematica stanco magari ma non annoiato. Ecco, io vorrei vedere gli studi perché hanno un discurso, studato, eccetera, però piuttosto che seguire stancamente esercizi abbastanza simili l'uno all'altro. e poi lo so che non è questa l'alternativa completa nel senso che anche un'analisi senza applicazioni può essere profonda e stimolante intellettualmente, però da quello che è la mia esperienza in realtà è stimolante per molto pochi perché in una classe sono in pochi quelli che riescono un po' a andare a fondo sul significato matematico di certi concetti, mentre quando ne vedo un'applicazione in una percentuale molto più alta si illumina e dice beh, questo ha uno scopo al di là di quello che mi sembra adesso. C'era lo stesso, però lo vedono molti meno altrimenti. Un'altra esperienza che ho avuto sicuramente interessante è che l'anno scorso avevo una quinta di linguistico, quindi il livello a cui si lavorava era molto più basso tecnicamente, però ho provato lo stesso a far vedere esempi di questo tipo. E sono tornato a trovarmi, una ragazza che fa biologia mi diceva prof, io aiuto quelli dello scientifico perché loro sanno fare i conti, ma non capiscono che conti bisogna fare per lavorare sulle cose. E questo, insomma, era contenta di riuscire a gestire, tecnicamente sono un po' indietro, ma sto recuperando. Bene, a partire dagli esempi che faceva prima Elisa, anche sulla funzione esponenziale, volevo spezzare una lancia in favore di una funzione che a scuola è secondo me un pochino trascurata, che è la funzione logistica. Ora, non penso che sia una funzione che andrebbe studiata nel dettaglio come tale, però far vedere alcuni esempi secondo me può essere molto interessante. Perché si ragiona spesso su tanti esempi che danno la funzione esponenziale, perché la funzione esponenziale salva fuori, come citava prima Elisa, in tante situazioni in cui la variazione è proporzionale alla montata in un certo istante. Per cui la crisi di una popolazione è l'esempio classico, perché il numero di figli di una popolazione è proporzionale a quanta popolazione c'è. Il decadimento radioattivo, gli atomi che decadono, sono proporzionali a quelli che avete. La permanenza di un farmaco è esponenziale anche quella, perché la quantità di farmaco espulso è proporzionale a quella che c'è. Il conto corrente, se abbiamo degli interessi, sono proporzionali a quanto soldi abbiamo in conto, gli scatti ne ha già parlato Elisa, e così via. Però, come si vede in tante situazioni, un esponenziale dura poi per sempre, con una promessa del genere, l'esponenziale andrà avanti per sempre, è sempre meglio di fidare. Allora, qui in basso vedete quell'articolo che è tratto da un articolo apparso su The Physics Feature, una rivista didattica della fisica americana, che si chiama, è un articolo che una volta ho fatto leggere anche agli studenti, The New Fletters Society, cioè la nuova società della terra piatta, perché è stato scritto in risposta a un economista che sosteneva che un'economia sana dovrebbe crescere sempre almeno del 1-2%. Diceva, ma questo non si rende conto che una crisi del 1-2% sempre costante vuol dire esponenziale, quindi vuol dire che richiede risorse infinite. Ora, una terra sferica non può avere risorse infinite e quindi il ragionamento era mutuato da una dimostrazione per assurdo. Diciamo che la sua idea è vera e quindi la terra non può essere sferica, ma deve essere forza infinita in una qualche direzione, per esempio in basso, quindi sostenere questa tesi vuol dire sostenere sotto sotto che la terra è piatta. Ovviamente paradossale, però è siccome un articolo leggibile per gli studenti e discuteva se può essere veramente una crisi esponenziale o no e quindi se questa funzione può adattarsi o no a descrivere una certa situazione. Un'altra famosa legge esponenziale è quella che si chiama la legge di Moore che negli anni 70 sosteneva che i chip, i transistor di un microprocessore sarebbero raddoppiati ogni anno e mezzo, due anni e sembra che questa sia stata seguita anche dalle industrie che li producevano che utilizzavano come obiettivo. Però ultimamente si comincia a dire che ormai non si sta più, non si può più miniaturizzare, bisogna trovare altre strade per aumentare la potenza di caldo dei computer, questo che ho citato qui a destra è un articolo a poche settimane fa su Nature in cui gli intervistati dicono che non è più un obiettivo delle case costruttrici ma si c'entrano altre strade. La funzione logistica, qui ne ho scritto una possibile parametrizazione perché si trovano diverse ma è sempre sostanzialmente quella e questo è l'andamento. Vedete che nella parte iniziale sembra un esponenziale, in effetti potrebbe essere un esponenziale, poi a certo punto la crescita diventa costante fino a raggiungere una situazione asintotica. E' quello che succede per esempio quando una popolazione anche di batteri, che è il classico esempio di tutore esponenziale, cresce con una quantità limitata di risorse a disposizione, quindi a certo punto la lotta per le risorse limita la crescita possibile. Cito, senza fermarmi troppo, questo esercizio che secondo me è abbastanza significativo da questo punto di vista che trovate sul libretto adesso la seconda prova di matematica di bretta e minima, e studia la secrezione dell'insulina da parte del pancreas. Dò solo indicazioni su come funziona e sugli aspetti didattici interessanti. Allora, l'insulina è secreta dal pancreas e serve a far assorbire il glucosio che abbiamo nel sangue, quindi quando il glucosio è alto viene secreta molta insulina che fa abbassare il glucosio. Se il glucosio è basso viene secreta poca insulina in modo che il livello di glicemia rimanga sufficientemente alto. Quindi inizialmente le cellule del pancreas si reagiscono alla quantità di glucosio nel sangue in modo più o meno proporzionale, quindi più il glucosio c'è più l'insulina viene secreta. Però le cellule del pancreas non sono infinite, quindi c'è un limite a questo che è l'asintoso che lì chiaramente si vede. Allora in questo esercizio viene proposta una funzione che esprime quante unità al minuto di insulina vengono secrete in funzione della glicemia. La prima domanda è tipica della modellizzazione. Perché nella funzione abbiamo posto che g deve essere maggiore di zero se la funzione ha un senso matematicamente parlato, se io chiedessi qual è il dominio, vi direbbero tutto r. Perché abbiamo messo g maggiore di zero? Perché g maggiore di zero matematico. Poi si chiedono, si fanno alcune domande che di per sé sono semplicissime rispetto alla funzione. Per esempio qual è secondo il modello la massima rapidità di insulina? Che è come dire qual è il massimo della funzione? Se lo chiedo così è banale, però se lo chiedo in questa forma vuol dire che devo capire bene cosa significa la funzione che ho davanti. Per esempio rapidità potrebbe confondermi con la derivata, invece no, non è così perché la funzione stessa esprime la rapidità. Quindi insomma solo il linguaggio con cui sono scritte richiede un'attenzione secondo me molto utile per imparare a tradurre una situazione e a passare dall'aspetto quello reale. Dunque santo gli altri aspetti perché trovate facilmente l'esempio sull'evento che è anche risolto e lascio la parola a Elisa per la parola sugli integrandi. Sì, allora leggevo, ne ho approfittato un attimo per leggere qualche domanda. Qui nel question and answer, leggo, si parla sempre più spesso del fatto che in futuro verrà consentito l'uso della calcolatrice grafica programmabile durante l'esame di stato. Cosa ne pensate come dovrebbero essere cambiati gli esercizi per adeguarli all'uso di tale strumento? Penso che in molti stati europei è già consentito e questo permette, consentito ad esempio in Francia tra l'altro è esplicito in quali esercizi si può usare questo strumento e in quali no. Penso che possa offrire grosse opportunità e soprattutto si potrebbe proporre esercizi di modellizzazione meno banali e meno finti in un certo senso, se uno ha gli strumenti giusti per rappresentare funzioni, gestire parametri e insomma è questo. Ad esempio, ne approfitto per mostrarvi una delle attività che in genere mi gioco o come introduzione alle integrali, se quella classe non l'ho avuta in fisica o in fisica. Ed è quella di partire un po' da un video, ad esempio di questo tipo, non invitando assolutamente all'emulazione gli studenti, quindi etichettando subito come incosciente, però è un classico esempio in cui di video su YouTube se ne trovano tanti in cui ad esempio è possibile vedere la velocità, come varia la velocità senza avere in qualche modo altri parametri. di questo video, quindi, ovviamente avete visto, di solito pongo agli studenti la domanda, potremmo stimare più o meno quanta strada ha fatto questo motociclista incosciente in questi 40 secondi di accelerazione folle. E innanzitutto agli studenti viene abbastanza spontaneo provare a ricostruire, seppure per punti, estrapolando un po' le informazioni dal video, li invito insomma a stoppare il video a cadenza di ogni secondo e annotarsi la velocità con cui il motociclista stava procedendo, fino a costruire quello che è appunto il grafico della velocità in funzione del tempo. A questo punto si ricorda agli studenti che dal momento che abbiamo diviso in antintervallini di un secondo potremmo in quel secondo pensare di approssimare la velocità costante, questo è anzi quello che propongono alcuni studenti spontaneamente, o altri viene spontaneo più pensare a una funzione continua e quindi a congiungere questi punti con una spezzata. qui faccio sempre usare il foglio elettronico quindi per stimare e calcolare quindi quello che loro capiscono essere lo strumento che può rispondere alla nostra domanda, cioè una stima dell'area del sottografico. Area che quindi si può calcolare con il foglio di calcolo elettronico, in questo caso in questo caso veniva che il motociclista in neanche 40 secondi aveva già superato ampiamente due chilometri e insomma è questo da ricostruire un po' questo percorso da abbastanza soddisfazione agli studenti. Per quanto riguarda il concetto di integrare volevo un attimo così esplicitare il fatto che è molto meno naturale la reinterpretazione di grandezze, soprattutto pensando alla fisica, di grandezze che sono integrali di altre funzioni piuttosto che la derivata che è molto spontaneo interpretare altre funzioni come derivate. Per questo io ho già da tempo che affianco alla classica definizione di integrale, quella classica insomma che si trova più diffusa nei libri di testo quindi come somma superiore e somma inferiore quando il limite delle somme superiore e somme inferiori quando esistono e coincidono, anche la reinterpretazione e questa attività del video mi aiuta anche a pensare invece di interpretarlo come limite di somme. Mi spiego con degli esempi, che è un po' l'interpretazione che tra l'altro un matematico chiede che sono le somme di Cauchy che ha esattamente un modo assolutamente equivalente di definire l'integrale di Riemann. In che senso? questa è l'attività che ho fatto. Pensiamo alla velocità quindi quello che abbiamo fatto è di suddividere l'intero intervallo temporale nel nostro caso 40 secondi in N intervallini e quindi di durata T su N. Abbiamo stimato in un istante di ogni intervallino la velocità in un punto di quell'intervallino. Quello che si fa per stimare appunto l'area del sottografico cioè in questo caso lo spostamento è stato sommare questi prodotti insomma. Si capisce che tale stima si raffina sempre di più, tanto più piccoli si prendono in intervalline quindi tanto più stime si fanno delle velocità nei vari punti fino ad arrivare appunto a interpretare l'integrale come limite di una somma di quelli che al limite stanno diventando infinitesimi e quindi con una scrittura di questo tipo. Percorso che si può in un certo senso ripercorrere in maniera più generale, quindi interpretando proprio l'integrale di una funzione f rispetto alla variabile di x nell'intervallo a b come limite di somme. Limite in che senso? Limite delle somme, di tutti i prodotti che si possono ottenere dell'ampietta, quello che è il delta x diventerà punto di x moltiplicando il valore della funzione stimato in un punto qualsiasi. Quindi mi spiego meglio con, se riesco a condividervi, chiedo scusa, ecco, un'animazione con GeoGebra mi aiuta meglio a spiegare quello che intendo. Quindi qui abbiamo le classiche somme superiori e somme, direi, adesso magari vi giro io a voi la domanda come definite gli integrali, però in genere la proposta più diffusa nei libri di testo, che è proprio la classica della Riemann, è questa, no? Sì. Esatto. Invece la definizione di Cauchy, che si dimostra essere assolutamente equivalente a quella di Riemann, è la seguente. Praticamente, sì, si divide sempre in intervallini, l'intervallo AB. In uno di questi intervallini si sceglie un qualsiasi punto del grafico relativo a quell'intervallino e si fa tendere, qui ad esempio è uno slider che mostra l'arbitrarità della scelta, cioè quale percentuale rispetto all'estremo distinto. Qui se prendo il punto centrale, qui se lo prendo un pochino più spostato verso destra negli intervallini e anche qui si vede che quindi l'integrale lo posso pensare come il limite di queste somme, di questi rettangoli generici. Questo aiuta un pochino di più l'interpretazione appunto di nuove grandezze fisiche. Ad esempio, i classici esempi della fisica che si possono reinterpretare come l'integrale, al di là di... ecco, vi proporrei i più classici, si possono proprio interpretare come limiti di somme, quindi se ho il lavoro di una forza costante per lo spostamento, laddove la forza non è costante, adesso questa S è diventata una X, laddove la forza non è costante, sommo tutti i vari contributi nei delta S infinitesimi e quindi questa somma con n che tende all'infinito di questa somma diventa un'integrale. Di nuovo qui l'impulso, se lo penso come al prodotto di una forza costante in un certo intervallino di tempo, laddove la forza non è costante devo sommare, così, su intervallini di tempo in cui la posso assumere, approssimare costante e mandare il limite per il numero di queste intervalli suddivisioni all'infinito. Qua mi riservo un altro problema. Queste interpretazioni integrali sono sicuramente un pochino meno naturali, almeno per quella che è la mia esperienza in classe. Però è un altro tentativo, un'altra fatica che comunque secondo me vale la pena di fare, perché dopo riescono a riconoscere in tanti altri contesti in maniera più naturale l'utilizzo del simbolo integrale quando parallelamente in fisica ne abbiamo già bisogno, appunto, già tante grandezze, sono reinterpretabili come somma di infinitesimi. E questa riflessione anche in matematica aiuta sicuramente in questo senso. Bene, allora dopo questi argomenti che sono tutto sommato abbastanza classici, nel senso che sono quelli che ormai da anni hanno il ruolo principale anche nell'esame di Stato, volevo proporre un piccolo approfondimento di un argomento che secondo me invece se lo guadagnerà, io sinceramente lo spero, nei prossimi anni che è la probabilità. E quindi provare a immaginare anche un problema, non solo un quesito legato alla probabilità, quindi qualcosa di complesso, dei soliti calcini spaiati, quanti deve strarne per riuscire a vestirsi recentemente al buio, oppure i dati che sono conti pure non sempre semplicissimi, però sono applicazioni che come applicazioni insomma non sono sempre entusiasmanti. In quinta, come vi sto mostrando adesso, sarebbero viste le distribuzioni di probabilità, quindi adesso faccio una piccola, prima ho preso una applicazione che si può fare già in quarta, che è quella delle assicurazioni, poi vediamo una possibilità di lavorare sulle distribuzioni. Allora, un'applicazione secondo me molto interessante è quella di calcolare un premio assicurativo, per esempio. Allora, supponiamo di dover assicurare una moto e metterci dal punto di vista dell'assicuratore. L'assicuratore fa, quando chiede un premio, fa una scommessa, ovviamente spera che la moto non venga rubata, però si basa per calcolare il premio sulle statistiche, quindi sulle statistiche di probabilità che ha a disposizione. Ecco, qui per esempio un'altra cosa che io cerco di fare nei problemi è di non dire, sapendo che l'Asia hanno rubato 31.104 moto su 695.000, ma gli dare una tabella da cui loro devono estrarre il dato. Sembra una banalità, ma anche imparare a leggere una tabella, io all'inizio lo davo così, giusto per fargli vedere dove venivano i dati, e poi ho visto che facevano errori pazzeschi, ho fatto un esercizio di astronomia, invece di dare la massa di mare, ho dato una tabella sul sistema solare e c'è chi si è messo la massa di Giove, c'è chi ha messo il raso di Venere invece della massa di mare, quindi anche leggere una tabella con un minimo di cura è interessante. Dunque, dicevo quindi, praticamente nel calcolo del premio, uno dice se sono state rubate una moto su 100, allora in uno dei casi favorevoli su quelli totali, la probabilità di furto è un centesimo, quindi anche il rapporto tra indenizzo e premio, perché sia favorevole, bisogna che il premio, cioè quello che paga l'assicurato, sia superiore a un centesimo dell'indenizzo che viene richiesto. Superiore di quanto? Di solito lascio stimare liberamente agli studenti, perché non lo pongono uguale, perché anche l'assicurazione, soprattutto quello che si può dire, deve ricamparci, quindi deve essere almeno leggermente superiore. Un'altra possibilità è quella di far calcolare anche l'assicurazione sulla vita, però questa cosa l'avevo proposto per esercizio in un libro che mi hanno detto che non era adatto da far vedere alla scuola, per metterle i furti delle moto, quindi abbiamo messo quello, però anche questo per riparare a leggere le tabelle e vedere quanto può costare una situazione sulla vita a una certa età può essere interessante. Ecco, questo tipo di problemi hanno anche il vantaggio che si prestano a, come tanti poi, a far vedere raffinamenti successivi del modello, perché per esempio in quel caso delle moto si può dire, supponi che una moto costi 10.000 euro, però lo sanno benissimo che una moto non costi 10.000 euro oppure che una è più vecchia, una è più giovane, allora si può anche far calcolare una media del prezzo delle moto, come faccio la media? Deve essere una media della distribuzione, quindi che è esattamente quello che si studia in quinta, come calcolare la media di distribuzione, cioè sommare la probabilità che una moto abbia un certo valore per il valore stesso. Questo è un altro che può essere poi legato per esempio all'analisi del rischio, che è una tipica applicazione di questo tipo di media. Normalmente quando si calcola il rischio di un evento si fa il prodotto della probabilità per il danno che può causare. Un evento frequente, frequente ma che causa un piccolo danno è più o meno allo stesso rischio di uno raro ma che causa un grande danno. Per cui normalmente il rischio complessivo di un'impresa è la somma di questi danni che possono essere causati ciascuna probabilità. È anche interessante una discussione su questo, quanto questo modello è adatto, perché non è che questo è il rischio. Questo è un modello che lo descrive, però uno potrebbe dire sì ma per me se il danno è molto alto non voglio correre nessun rischio, quindi per me è già troppo, soprattutto se si parla molto o male, quindi si presta anche una discussione su quanto l'aspetto matematico descrive come noi vogliamo la situazione reale. Si possono anche mostrare queste matrici di rischio che sono un modo per, si sa che le formule spaventano, quindi la formula di prima per calcolare il rischio può far paura, allora in tante situazioni si preferisce usare una matrice che fa esattamente la stessa cosa, però con dei colori e quindi le cose spaventano meno che la formula. In questo caso si mette nelle righe la probabilità che avvenga un certo problema, P1 quasi certo, molto probabile P2 eccetera. Nelle colonne quali sono le conseguenze? Questa che sto facendo vedere per esempio è presa dal sito della NASA, per cui quando devono valutare i rischi che corrono quando preparano un viaggio spaziale, quelli che poi compaiono nel rosso, che sono quelli che possono creare più problemi perché sono sia probabili che causano danni elevati, sono quelli su cui bisogna tenere possibilmente previsivamente. Ma anche in tante, ho visto che in tante amministrazioni anche in Italia, sono tabelle molto simili che servono appunto a valutare i rischi e proponevo come esercizio, lo scrivo qui, costruisci una tabella con rischio di interrogazione delle attive conseguenze per ogni materia in diversi giorni della settimana e valuta, quindi quale è il giorno più pericoloso per andare a scuola. e può essere un'applicazione che posso sentire molto concreta. Ecco, vi presento per concludere un tentativo di costruire un problema completo adatto all'esame basato sulla probabilità. Siccome ci sono diverse domande, l'ho spezzato in due, per cui quello che mi interessa è solo la metà. Nella città tal d'Italia abitano un certo numero di famiglie. Nel 2015 ci sono stati 78 furti in appartamento e il valore della mezza rubata è riportato nella tabella sotto, quindi 4 furti meno di 100 euro, 6, 300, 500 e così via. Si chiede di rappresentare i dati in un histogramma, di stimare il valore medio della mezza rubata in un singolo furto, il valore medio della perdita per famiglia abitante della città e il possibile costo del premio assicurativo. Allora, già rappresentare i dati in un histogramma non è banale perché i range delle singole colonne non sono tutti uguali, quindi uno potrebbe o fare semplicemente un diagramma come quello che è riportato a sinistra, però in quel caso l'area non ha nessun significato, mentre adesso è riportato un histogramma vero e proprio in cui la frequenza è normalizzata alla larghezza dell'intervallo considerato. È sicuramente più complesso, adesso dipende, alcuni magari le fanno queste cose in classe, altri no, se uno non le fa ovviamente non lo richiede, se uno le fa io personalmente darei un certo punteggio se non ho fatto un diagramma, un altro se non ho fatto anche un histogramma rinormalizzato. In quel caso appunto l'area rappresenta il numero di casi effettivamente ottenuti, mentre nell'altro caso posso guardare solo l'altezza. Anche la stima del valore medio può creare dei problemi perché non abbiamo il valore esatto di ogni furto e quindi dovremmo usare per esempio che userei la media di ogni intervallo e quindi si trova che la media è 2.119 euro a furto. Poi si chiede anche il valore medio per famiglia abitante e quindi divido invece che per il numero dei furti per tutte le famiglie è 36 euro. Questo vorrebbe essere un aiuto per la domanda successiva. Se il valore medio di perdita per famiglia è 36 euro, se devo chiedere un premio per un'assicurazione quanto chiedo? Più di 36 euro sicuramente perché quella è la perdita media che avrò, per esempio potrei dire 50 euro, ma io accetterei qualunque risposta diciamo perché abbia capito che deve essere maggiore di quello. Il secondo gruppo di domande è un pochino più impegnativo. Sulla base di un database più ampio che comprende sia i dati degli anni precedenti che di altre città con caratteristiche simili, uno statistico corpore di calcolare il numero di furti attesi in una certa città per un certo valore utilizzando questa formula che vedete chiaramente è una gaussiana, moltiplicata per n dove n rappresenta il numero complessivo di furti in città. Quanti furti prevederebbe questa formula per un valore complesso tra 1000 e 3000 euro? E qui non c'è da fare un integrale perché i dati che ho utilizzato sono dalla media entro un sigma, quindi la media meno un sigma, la media più un sigma, quindi 68% semplicemente, però quindi uno deve sapere come maneggiare la distinzione gaussiana. Questo risultato è compatibile con i dati, quindi se io vado dentro più o meno un sigma, sulla base della formula ottengo 53, i dati invece prevedevano 35, quindi non è molto legato ai dati. E quindi si chiede come si potrebbe modificare la formula per ottenere una maggiore aderenza ai dati, perché qui ci sono tante possibili risposte, che secondo me è una possibilità tipica di un problema di modellizzazione, non c'è una risposta unica, di cui vanno tutte bene, ma per esempio uno potrebbe rispondere e mi calcolo la media e la variante del campione e con quelli è fatta una gaussiana e andrebbe bene, oppure aumento il valore di sigma perché vedo che i dati sono, devo permettere di avere più dati dentro. Anche questa, magari meno completa, è una risposta sicuramente assettabile. E poi l'ultima domanda in cui si chiede di manipolare un pochino la formula, come si potrebbe modificare la formula in modo che contenga il parametro F che rappresenta il numero di furti? Se voglio prevedere i furti, non so in anticipo quanti sono i furti totali, ma so quante famiglie ci sono. Quindi posso invece di mettere N il numero di furti, mettere la frequenza di furto per famiglia sulla base dei dati storici e rimontificare per il numero di famiglie, quindi invece di N, N totale su F totale per il numero di famiglie di quella città. Sono manipolatori molto semplici però che richiedono la conoscenza, la comprensione è bene in che senso il modello che stiamo usando descrive la situazione. Quindi credo che in realtà non sia un problema semplice, questo qui che vi ho fatto vedere, l'ho fatto vedere a qualche collega che hanno detto sì, sicuramente non sono abituati, ma questo dovrebbe essere l'obiettivo secondo me, maneggiare un po' un minimo di probabilità e statistica vuol dire sapere interpretare dati di questo tipo. E concludo facendo riferimento a quello che diceva prima Elisa, cioè che nei giornali si trovano tante funzioni grafici, delle volte vado a colpo sicuro e dico apriamo un giornale, cerchiamo un grafico statistico, vi giuro ogni giornale ne possiamo trovare uno sbagliato, perché e quindi do un premio agli studenti che mi portano esempi di grafici sbagliati o forbianti, fatti male, che possono trovare sui grafici. Non posso dare troppi perché è troppo facile trovarne, quindi non lo spero. Però all'inizio si divertono molto in questa casa a cazzare. Beh Nicola, noi direi che avremmo finito. Beh, intanto io comincio col ringraziarvi perché veramente per me, anche soltanto personalmente, sarà veramente una serata non interessante di più, perché il numero di spunti e la qualità degli spunti, andando dai polinomi fino all'analisi e fino alla probabilità, sono veramente di una quantità e di una qualità straordinaria. Io dico spesso che durante questi corsi i primi ad avere l'opportunità di imparare tante cose siamo noi tutor, oltre che i corsisti. Bene, allora io in chiusura ho giusto da proporre una o due tra le domande che sono pervenute perché siamo veramente un po' stretti con i tempi. Quindi, diciamo, vi leggo una domanda in particolare che tra l'altro ne sintetizza un paio. Volevo sapere se può essere utile, dice una corsista, al fine motivazionale, dopo tutti questi esempi proposti durante il seminario, far provare un esercizio inverso, dando ovviamente le opportune informazioni, insomma chiedere ai ragazzi di far desumere dal grafico della derivata di una funzione quella della funzione di partenza e nel tema dell'integrazione, se vogliamo. Comincio a porvi questa, poi vediamo se riesco a porvi anche la seconda. Prego, se volete... Sì, secondo me sono esercizi assolutamente fondamentali proprio per sviluppare questo tipo di competenze, cioè il sapere anche ritornare indietro, quindi quale informazione la velocità ci dà sulla funzione iniziale è assolutamente importante. Sono esercizi che ci permettono anche noi docenti di tenere sotto controllo quanto stanno apprendendo i ragazzi e consolidano delle competenze e delle abilità assolutamente non banali, quindi secondo me sono esercizi che devono assolutamente abbondare sia in contesti di modellizzazione ma anche come esercizi in contesto generale. Per me è proprio anche lavorare in questo schema di andate e ritorno sui grafici è di una valenza assolutamente che ripaga in una consapevolezza che gli studenti sviluppano nel trattare questi argomenti importantissima. Mi è venuto in mente che avevo proprio un ultimo esempio di esercizio in cui, se mi ricordo bene, provo a... Ecco, questo è un altro spunto che vi ho preso da... l'ha scritto una collega per la rivista Archimede. Il tronco di un albero che possiede... che possiamo approssimare con un cilindro aumenta di diametro nel tempo formando ogni anno due nuovi anelli. La crescita è più veloce in annate di pioggia abbondanti, meno veloce in periodi più secchi. In una certa zona l'andamento delle piogge è ciclico e possiamo descrivere la velocità di accrescimento variabile nel tempo del raggio del tronco di un albero in una data specie con la funzione periodica, quella che leggete, dove vuole la velocità di accrescimento in centimetri all'anno e t il tempo di anni. E qui proprio si chiede, oltre ad interpretare i parametri come già Carlo diceva, adesso qui non c'è proprio dal grafico ritrovare la legge del raggio, però questo è un esempio di esercizio in cui si torna indietro, quindi determinare la legge che esprime il raggio del tronco. Cioè, nota... E qui è facile modellizzare con che velocità, con che ritmo cresce, si chiede ad esempio di ritornare al raggio. E un calcolo... un calcolo concreto. Quindi, secondo me, anche questi tipi di esercizi che richiedono di... questo processo di andata e ritorno, concordo con la collega, meno se... se nella sua... nella sua ottica era, insomma... lei li propone, io concordo in pieno, che sono esercizi assolutamente utilissimi proprio. E penso anche Carlo... Sì, 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 assolutamente. ...condivida. Allora, Carlo, magari propongo a te la seconda domanda, che è la sintesi di un paio di domande che mi sono pervenute via mail e che sono nel tono della domanda che vi avevo posto anche in anticipo rispetto al seminario. In sostanza, si può riassumere così, impiegniamo una quantità di tempo del nostro tempo scuola, per portare i ragazzi a questo punto di maturazione che ci siamo prefissati riguardo alla modellizzazione. Ciò comporta un costo dal punto di vista del tempo scuola. È economicamente, da un punto di vista didattico, un vantaggio senza dubbio oppure rischiamo di perdere dei pezzi importanti di quello che dobbiamo proporre loro come formazione. Lascio a te, in questo caso, la risposta. Ah, io quando faccio matematica, sono continuamente... me la faccio tutti i giorni questa domanda. Quindi non ti dico senza dubbio, perché sicuramente bisogna raggiungere un certo equilibrio. Sono problemi che richiedono molto tempo, per cui io normalmente li assegno a casa in modo da discutere in classe solo la soluzione, in modo che loro ci abbiano già pensato, perché se ci mettiamo a pensare... certo qualcuno all'inizio lo faccio vedere ragionandosi insieme in classe per far vedere che tipo di domande loro si devono porre, però poi li assegno a casa in modo che ci possano ragionare un pochino sopra. Vedo che prima si comincia meglio è, nel senso che cominciando al diegno capiscono come funzionano le cose e dopo si perde sempre meno tempo, perché si perde molto tempo quando i ragazzi non sono abituati a questo, cioè se uno non fa nulla fino in quinta e poi in quinta vuole introdurre la modernizzazione, la cosa è faticosa, perché non sono abituati a ragionarsi e quindi ogni lavoro di questo tipo richiede molto tempo. Se sono abituati già ad alcuni anni, allora appunto se non si esiste a casa, si perde poi il tempo per discutere magari di diverse opzioni tutte accettabili o alcune in classe, ma il tempo è, a quel punto il vantaggio è assolutamente notevole, perché danno un rinforzo incredibile quando uno si sforza per cercare di capire che funzione serve a descrivere una certa situazione, perché alla derivata fatta così, eccetera, non se ne accorge, ma sta ragionando sui concetti matematici importanti e quindi dopo si ricorda a fondo, dopo cosa vuol dire una derivata non se ne scorda più, se è stato lì mezz'ora a sudare a vedere la funzione adatta. Quindi secondo me ne vale la pena, però se si parte in quinta la cosa è molto faticosa, bisogna partire almeno dalla terza e poi un pochino secondo me anche già dal biennio. Noi facciamo di solito una prova di fine biennio, quest'anno sono riuscito ad inserire un problema di questo tipo nella prova, ma è cinque anni che ci avevo detto, quindi non è semplice. Bene, allora siamo ai saluti e ai ringraziamenti. Io intanto devo ringraziare tutti i partecipanti che sono stati un numero consistente anche per questo seminario sul web, per questo webinar, che è l'ultimo che proponiamo ai corsisti in questa tornata, dei corsi online Zanichelli. Devo dire che i seminari sono stati seguitissimi, corre l'obbligo anche di rassicurare i corsisti che ci hanno chiesto a gran voce il materiale che esattamente come per gli altri due seminari ovviamente vi forniremo, cioè le slide relative e ovviamente avremo la possibilità di andare avanti e indietro sul seminario con YouTube e quindi potremo visualizzare il webinar non si chiude con il corso l'opportunità di poter rivedere il webinar. Quindi saluti da parte mia e da parte di tutti i tutor che hanno partecipato alla formazione ai corsisti. Un ultimo saluto lascio giusto un attimo in primo piano prima Carlo e poi Elisa per salutare tutti quanti e buona serata e buona prosecuzione della formazione. Grazie a tutti per l'attenzione e buonasera. Bene, un caro saluto anche da parte mia, grazie di questa occasione insomma per riflettere insieme. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Arrivederci.